Una manifestazione in piazza Orsini per dire vogliamo scuole sicure. Sono i genitori che chiedono a gran voce la sicurezza dei loro figli nel corso dell'anno scolastico, dopo i noti fatti legati chiaramente alla sisma. Arrivano da Pineto, arrivano da Atri, da Basciano, insomma un po' da tutta la provincia, ma soprattutto arrivano dal Molise, i genitori che hanno perso i propri figli nella scuola elementare di San Giuliano, lo ricorderete tutti, dove numerosi bambini persero la vita proprio a causa del crollo della scuola causato da un terribile terremoto. La nota negativa, l'unica probabilmente, di questa giornata è che ci si aspettava sicuramente una maggiore affluenza. Ci si aspettavano più genitori, ci si aspettava che tutti i genitori partecipassero, che ne fossero in tanti. In realtà ne sono davvero molto pochi. La folla che vedete è costituita proprio da quei comitati che vengono da un po' tutta la provincia di Teramo. Ma i genitori di Teramo dove sono? Questa è la domanda che si pongono gli organizzatori. A settembre riapriranno le scuole, tutto è rimasto così com'era. Le scuole hanno indici di vulnerabilità bassissimi, molte scuole non sono stati affatto calcolati, i piani di evacuazione sono ancora eterogeni e spesso inadatti e sconosciuti. Queste sono le rimostranze dei genitori che si sono riuniti qui, capeggiati dal comitato Assai Scuole Sicure, dove Leda Ragas ha cercato appunto di riunire tutti per urlare a gran voce. E allora andiamo ad ascoltare intanto il punto di vista di Leda Ragas, che è la portavoce di tutte le mamme Teramane. Siamo qua perché abbiamo notato due modi di fare completamente diversi tra provincia e comune, vogliamo capirne il motivo. La provincia ha fatto tutte le verifiche sismiche nell'EC3, per cui le più approfondite, e è stata presa la decisione di chiudere le scuole sotto lo 02, mentre vediamo da parte del comune un temporeggiare per questa decisione. Secondo noi le scuole che hanno un indice inferiore allo 02 hanno anche delle problematiche serie di sicurezza base, ovvero mancano le scale antincendio, le uscite di sicurezza e gli impianti non sono certificati da anni. Quello che ci chiediamo è come possano pensare che noi genitori accettiamo l'idea di far rientrare i bambini in queste scuole. Questa mattina ci sono diversi comitati presenti? Sì, ci sono rappresentanze di Umbria, Marche, Molise, Lazio, c'è il comitato di San Giuliano di Puglia, che testimonierà quello che succede quando non si fa la giusta attenzione alle strutture scolastiche. Quale sarà il vostro prossimo passo? Il nostro prossimo passo, se necessario, sarà di nuovo la risposta e la denuncia. Anche il comitato vittime della scuola elementare di San Giuliano sono qui a manifestare con i genitori terramani e con i genitori di tante altre regioni. Voi giustamente avete perso dei figli, quindi sapete cosa significa non avere una scuola sicura per i propri bambini? Sì, sì. Io ho perso una bambina, aveva sei anni, faceva la prima elementare e mandarla la mattina a scuola e poi portarla in una barra non è il massimo della vita. Poi la scuola, uno pensa che sia il luogo più sicuro. Infatti quando c'è stata la piccola scossa di terremoto, la scuola è stata ristrutturata appena da 50 giorni, quindi è sicura invece. Che cosa si prova in quei momenti? Perché lei, come giustamente ha detto, quando si manda un bambino a scuola si è tranquilli, è come mandarli da una nonna, da un parente, insomma si vive serenamente e poi tutto un tratto finisce una parte della propria vita. Cosa succede mentalmente e psicologicamente? All'inizio non reali, cioè arrivi là sulla scuola, vedi tutto crollato e ti guardi intorno, è tutto all'impiedi, ti chiedi, ma che sta succedendo? E poi vedi la realtà che era una scuola clandestina, diciamo. Voi avete lottato tanto per ottenere giustizia, avete ottenuto qualche forma, diciamo così, di giustizia? Allora la giustizia l'abbiamo ottenuta, abbiamo lottato 15 anni, però c'è da dire che ci sono stati dei colpevoli condannati che fanno la loro vita meglio di prima, non hanno fatto un giorno di carcere, nemmeno un'ora. Praticamente ognuno viene premiato dall'ingegnere alla ditta costruttrice, insomma giustizia sulla carta, però loro fanno la vita meglio di prima. Qua i condannati siamo noi che non abbiamo più i figli. Signora, lei cosa si sente di dire al sindaco di Teramo da mamma che ha sofferto così tanto? Di proteggere i nostri figli, perché questi sono i figli dell'Italia che crescerà, quindi basta pensare che da noi mancano 27 ragazzi, adesso sarebbero ragazzi, uomini, donne, avrebbero figli, manca una generazione intera e quindi è brutto. Quindi proteggere i figli, i figli dell'Italia, solo questo. D'Alberto, l'opposizione è scesa compatta a fianco dei genitori per chiedere scuole sicure, che idea si è fatta? Sì, perché è gravissima la situazione di incertezza in cui oggi ci troviamo, nonostante sia trascorso un anno dal terremoto di Amatrice e siamo a meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico. Ad oggi non si conosce ancora qual è la situazione completa, complessiva, stiamo facendo delle controverifiche sugli indici che abbiamo fatto, perché evidentemente c'è qualcosa che non quadra, ma il dato chiaro è uno, che non c'è stata assolutamente programmazione. Anche questo gioco dei MUSP si gioca un po' sull'equivoco del fatto che i MUSP vengano chiesti per gli indici di vulnerabilità sismica che sono bassi, delle sei scuole. Non è così, in realtà i MUSP sono legati all'ineggibilità e allora noi chiediamo per quale motivo, così come abbiamo chiesto, non sono stati chiesti al governo nel mese di ottobre del 2016, dopo la scossa che poi ha comportato l'ineggibilità delle scuole. Non si può chiedere ad agosto e poi andarsi a lamentare perché altri enti sono in ritardo. In particolare su questi indici di vulnerabilità sismica che sono sotto lo 02, che oggi magicamente è diventata la soglia di sicurezza, quando si è sempre parlato di soglie più alte, noi chiediamo che parlino i tecnici, che i tecnici si esprimano e dicano chiaramente come stanno le cose, perché non può essere il politico a sopperire e a occupare lo spazio anche da parte dei tecnici. Noi vogliamo sapere in particolare se i criteri che sono stati utilizzati sono criteri oggettivi e uniformi per tutte le scuole. Questo è un dato importante perché io vorrei capire oggi che si dice ma spostiamo dei ragazzi eventualmente da una scuola che ha uno 0,15 a una scuola che ha uno 0,22. Che differenza c'è tra 0,15 e 0,22 in termini di sicurezza delle scuole? E su questo è fondamentale che ci sia una risposta di chiarezza, di verità, che ad oggi non c'è. Qualora anche questi MUSP fossero dati, tuttavia arriverebbero in tempo? No, chiaramente non per questo anno scolastico. Noi la richiesta l'abbiamo fatta il 10 agosto. Dovremmo fare tutta una pianificazione per l'individuazione della posizione, per il piano di installazione. Poi anche sulla pianificazione non c'è stato alcun confronto, alcuna partecipazione né con il Consiglio Comunale che è stato completamente esautorato, né con le famiglie. Non c'è stata chiarezza, non c'è stata partecipazione. E c'è anche una grossa confusione, perché ad esempio si ragiona in termini di MUSPEL di una collocazione sull'area dell'Adalessandro, dove dovrebbe venire poi realizzato, da qui a breve, nel piano decennale, il polo scolastico. Ora vorremmo capire come si conciliano questi due interventi. Su questo noi risposte non ne abbiamo. E francamente non vorremmo che si stiano creando delle condizioni per poi costituire e costruire un incidente per delle dimissioni settembrine che hanno altre finalità. Protestano i genitori, protestano anche però gli insegnanti, oltre che esponenti del Consiglio Comunale di Teramo. Consigliere Marrone, qual è la situazione? Perché siete anche voi qui insieme a tanti genitori? La situazione è massimamente, direi, oserei dire, quasi assurda a questo punto, perché a 15 giorni, poco più dalla riapertura, io segnalo sia come Consigliere Comunale, ma come mamma e come docente, la completa incertezza. Non si doveva arrivare a questo punto, perché da un anno dal terremoto, all'indomani del terremoto di ottobre scorso, io e il Consigliere Berardini avevamo già sollecitato la richiesta di MUSP, perlomeno per le scuole che avevano avuto più danni dal terremoto, ma questa richiesta si è stata sempre rigettata dal Sindaco anche nell'ultima commissione consigliare di un mese fa, dicendo che non avevamo diritto ad avere questi MUSP. Poi improvvisamente invece è tornato indietro chiedendoli. Quindi ravvisiamo una completa mancanza di programmazione, una completa incapacità governativa e noi ci troviamo a pochi giorni della riapertura delle scuole senza avere nessuna sicurezza. Quindi questo è assolutamente inaccettabile. Berardini, il Sindaco di Teramo, anche i nostri microfoni, ha rassicurato i genitori. L'11 settembre tutti i ragazzi torneranno sui banchi di scuola, però il Movimento 5 Stelle non è di questo parere. La colpa di questa situazione di assoluta incertezza ovviamente è da scrivere all'amministrazione comunale che non ha effettuato le verifiche di vulnerabilità sismiche come prescritte dalla legge nei tempi debiti. Ricordiamo che scadevano nel 2013, quindi siamo in ritardo di oltre 4 anni. Ovviamente non avendo fatto le verifiche non hanno potuto richiedere i moduli provvisori perché nessuna scuola di Teramo raggiunge la sicurezza sismica che ha un coefficiente pari a 1. Abbiamo una situazione disastrosa con oltre 6 scuole sotto lo 0,2 e ovviamente il sindaco di Teramo ad oggi non sa cosa fare e metterà in seria difficoltà i genitori che non sanno come organizzarsi soprattutto in vista dei paventati doppi turni. Questa è una situazione indecente da scrivere all'incapacità comunale. Lei è qui nella doppia veste di consigliera comunale ma anche di insegnante di parte del mondo della scuola. Che idea si è fatta di questa situazione? Allora, dal primo giorno che ho iniziato il ruolo di consigliere comunale perché insegnanti sono tanti anni alle spalle ho parlato subito e ho messo alla visione di tutti la sicurezza nelle scuole. Quindi a me preme doppiamente sia come amministratore della minoranza che come insegnante soprattutto. Volevo raccontare un episodio che quando sono andata da matrice cioè a tutti preme qualcosa. A me ha scosso la coscienza vedere quella scuola in quelle condizioni che era stata migliorata ed è per questo che noi vogliamo insieme ai genitori, insieme ai cittadini la sicurezza nelle scuole. Parlo anche di sicurezza spicciola e di quella che ho parlato anche sempre scale, uscite di sicurezza, proroghe. Non voglio più sentire la parola proroga perché ok ci sono le proroghe ma gli amministratori hanno la responsabilità di pensarci alla sicurezza spicciola. Nella nostra scuola per esempio non c'è l'uscita e in altre scuole l'uscita di sicurezza e in altre scuole è lo stesso. Quindi pensiamo anche a quello. Tanto in quelle scuole ritorneremo. Giusto? No. Lo sanno chi amministra. Però almeno la sicurezza spicciola. Ecco, stamattina però notavamo che non c'è nessun esponente della maggioranza. Perché secondo lei? Difficile da pronunciarsi, non so perché forse non hanno ben capito che questo è per tutti. Cioè la sicurezza nelle scuole abbraccia tutti, tutti abbiamo dei figli, dei nipoti, dei parenti, degli insegnanti e quindi io penso che sia per tutti, valga per tutti la sicurezza, anche per i consiglieri di maggioranza. Poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo con i comitati, ma io penso che loro facciano il bene di tutti, i bambini, i ragazzi, i giovani. Volevo aggiungere una cosa che mi viene dal cuore. La seconda volta che incontro i genitori di San Giuliano di Puglia, a loro non possiamo proprio dire che finora non sono crollate le scuole. Non è allarvismo, non è strumentarizzazione, non è terrorismo, è solo presa di coscienza. Allora non possiamo dirlo. Se parlaste tutti e incontraste i genitori di San Giuliano di Puglia, cambiereste idea.